Bentornati a tutti signori, bentornati camerata, bentornati comunisti dall'Eccelso in questo nuovissimo video Sono visibilmente provato oggi, veramente è una giornata che mi sta devastando, sono stanchissimo Ora me ne vado a dormire, anzi quasi quasi vi faccio una parte di video dal letto, va bene, va bene, vi gaserebbe Allora, oggi il titolo è, ancora non l'ho deciso, però probabilmente sarà Joe Pedro, virgola, posso? 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 O qualcuno inizia a scrivere, a incazzarsi E ma tu esalti altare e poi attacchi Joe Pedro, e ma Joe Pedro va difeso, Joe Pedro ci ha salvato Allora, questi discorsi pieni di retorica, che sono un po' gli stessi che vengono fatti con Cragno Nel senso che, per quanto non paragonabili come giocatori, tolto questo Sempre gli stessi discorsi, ma Cragno, le sue parate ci hanno salvato Gli stessi con Joe Pedro, i suoi gol gli scorsiani ci hanno salvato Ma questo, ma in dubbio, cioè, qua non stiamo andando a sindacare il passato, le cose oggettive Qua stiamo andando a sindacare, ad analizzare il presente Analizzando una situazione che purtroppo è sempre più palese, purtroppo è sempre più palese Ovvero, un Joe Pedro che ha dato forse più di quel che doveva dare Cioè, ci siamo creati delle aspettative anche troppo grosse nei confronti del povero Joe Pedro In questi anni, e adesso, e adesso ci sono, continua ad esserci queste aspettative Il problema qual è? Il problema qual è? Che le aspettative ci sono E quindi si crea una sorta di spirale dalla quale non riusciamo ad uscire Per la quale Joe Pedro non può essere tolto dal campo Oggi, la mia domanda è, posso parlarne o qualcuno si incazza? Perché qua è una premessa doverosa Allora, lui è praticamente insostituibile, sempre Adesso, non so da quant'è che non segna L'ultimo gol che mi ricordi, non mi sono preparato nulla Oggi ho veramente, proprio me lo stavo spaccando in mano Ho acceso il telefono e ho detto, facciamo questo video Allora, l'ultimo mi sembra contro la Fiorentina Dove tra l'altro aveva fatto un disastro Secondo me è una delle peggiori partite di Joe Pedro Veramente aveva sbagliato di tutto in quella partita Tra rigore e 10.000 occasioni Ma veramente ragazzi, sono almeno due mesi da quando è tornato dal ritiro della nazionale Che è un giocatore, veramente parliamone Cioè, fuori forma, primo Poi sta soffrendo, sta soffrendo un Gaston Pereiro Che sono come giocatori pseudosimili Poi secondo me non lo sono così simili Ma su questo ne potremo anche parlare Che sta, e sta un po' patendo il fatto che lui stia giocando molto Secondo me è molto meglio di lui Poi voi direte, sì, nell'ultima partita non ha fatto un gran che neanche Gaston Sì, ma il vedere un giocatore come Gaston Pereiro Che io l'ho sempre etichettato, forse sbagliando Come giocatore svogliato, scazzato e scoglionato Che è lui che mi guida il pressing della squadra E mi fa alzare la squadra Perché Joe Pedro non pressa neanche più Come faceva un tempo Ma corricchia, sta iniziando a corricchiare Poi, cioè, adesso tutti Vi attaccherete all'ultima partita Eh, ma quando è uscito Gaston Ha fatto quel velo Ho letto dei commenti di questo tipo Ma possiamo veramente appellarci al fatto Addirittura che sia colpa di Gaston Pereiro Se Joe Pedro sta giocando in questo modo Allora, il discorso da fare è un altro E da impostare in modo diverso Cioè, se... Allora, sicuramente non sono fatti per giocare assieme Questo è chiaro Come non sono fatti per giocare assieme Per caratteristiche Joe Pedro e Keita Balde Cioè, questo è chiaro Questo è chiaro Servirebbe una prima punta Come, diciamo, come vi dico Da quest'estate Che è del tipo di Alberto Cerri Ci fosse oggi Alberto Cerri Non avremo di questi problemi Perché tu Joe Pedro Comunque lo devi far rifiatare un attimo E ficcarlo in panchina Perché, signori Qui veramente stiamo assistendo A una delle cose più immeritevoli di sempre Un giocatore defunto, devastato Che continua a giocare Ed essere titolare E non te lo puoi permettere E non te lo puoi permettere Perché in queste ultime 11-10 Quante sono finali Tu devi mettere i più in forma Non i più forti Che poi Joe Pedro sia molto più forte di altri Che in questo momento sono titolari Su questo non c'è dubbio Ma Joe Pedro in questo momento è questo È questo Io spero che con questo video Ma lo spero Che alla Spezia faccia il gol decisivo Ma ragazzi Stiamo sullo stesso filo d'onda Cioè io spero che tutti questi video Spero che lo stesso Cragno Continui a fare bene Non faccia cappelle Cioè io la mia speranza Non è aver ragione Io faccio un'analisi Di quel che ho visto Poi di quel che vedrò Non posso saperne Non posso saperne Io personalmente Non sono un allenatore Alla Spezia lo metterò in panchina Voi direte Ma sei un pazzo Eh sì Io farei così Mi dispiace Io farei così Oppure fai un 3-4-2-1 Però vuol dire che lì Ti risbilanci E altri discorsi Comunque dicevamo Cherry Ci fosse Cherry Non avremmo problemi Perché tu metti Cherry Che è un attaccante di un certo tipo E ha la fisicità Per fare quel tipo di attaccante Non come Pavoletti Che non ce l'ha più Perché non vince sponde Non contrasti aerei E quant'altro E allora risolvevamo ogni problema Tu l'hai ceduto Non l'hai sostituito Ti sei tenuto Chetter Che è veramente Un piombo Morto Arrugginito Schifoso E anche puzzolente E poi hai preso Gagliano Ma chiaramente non è adatto Non è impossibile giocare Giocare in questo modo Contini Che era capocannoniere Nel campionato di primavera 1 Del campionato L'hai dato via In Serie C E quindi insomma La situazione È quella che è A livello di reparto attaccanti Cioè parliamoci chiare Però Gio Pedro Cerchiamo di analizzarlo Quando lo analizziamo In un modo Cerchiamo di essere Il più oggettivo possibile Cioè In questi ultimi due mesi Considerando queste prestazioni Degli ultimi due mesi Per voi È normale che Gio Pedro Ad oggi sia titolare Io penso Che se Qualsiasi altro giocatore Del Cagliare Avesse fatto due mesi Di prestazioni Di Gio Pedro Allora apreti cielo Allora apreti cielo Allora apreti cielo Se avesse fatto due mesi Di prestazioni come Gio Pedro Giorgio Altare Ma sapete cosa usciva fuori Sapete cosa usciva fuori Altro che il posso parlarne Lì se provavo a difenderlo Veramente dovevo venire qua Con l'elmo E col giubbotto antiproiettile Perché Chissà quante Quanti lanciafeci Quante Quante catapulte di feci Che mi arrivavano Potevano arrivare In quel frangente Ok Ok Quindi cerchiamo Sempre Rimaniamo uniti Io adesso Famiglia 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 Voglio creare una famiglia Proprio Una famiglia Rimaniamo uniti Adesso farò Faccio veramente Il democristiano Il cattolico Anzi faccio Proprio il catechista Il catechista Rimaniamo uniti Ragazzi Uniti Scambiatevi un segno di pace Ok Un gesto di pace Un gesto di pace Va bene Solo per i credenti Queste cose Va bene Scambiamoci un gesto di pace Chiediamoci scusa l'un l'altro Ok E crediamo in questa squadra Crediamo in questi ragazzi Che sono da supportare Tra l'altro Sabato alle 15 Ci sarà La live reaction Non so se ci saranno altri video Ci sarà una live Dove andremo a parlare E programmare Il viaggio a Cagliari Che faccio tra una settimana e mezza Ragazzi Devasto Devasto Tra l'altro Per chi volesse E per chi è arrivato a questo momento del video Io sarò in Curva Nord A vedere Cagliari-Milan Quindi Per chi è di Cagliari Ha il piacere Di vedere la partita Con noi Con noi Perché sarò con Tommy Con altri Insomma Però con noi Si prendessi i biglietti In Curva Nord Poi magari saremo dispersi Adesso non so se ci sarà il tutto esaurito Spero di sì Perché devo guidare Devo fare Cacciare E quant'altro Però almeno magari Insomma ci si vede E quant'altro Ok Va bene Vado un bacione E ciao a tutti ragazzi